Good morning a tutti voi e buona giornata. Siamo al capitolo diciottesimo di Luca, al versetto 35. Siamo negli ultimi passaggi, nell'ultimo percorso che Gesù compie salendo a Gerusalemme e quindi transitando a Gerico. Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto lungo la strada e mendicava. Questo primo versetto di questo episodio a me piace sempre tanto. Ecco, piace sempre tanto perché in realtà descrive un po' l'umanità, descrive un po' ognuno di noi. Che siamo ciechi, sulla strada e mendicanti. Siamo sulla strada, spesso fermi, ai bordi della strada. Nella nostra vita spirituale, ma anche nella nostra vita in genere, possiamo sempre rischiare di stare seduti ai bordi. Ciechi, incapaci di vedere, incapaci di vedere la vita, le bellezze della vita. Incapaci di vedere il volto di Dio misericordioso, Padre, il volto del Dio di Gesù. Ciechi, ciechi, anche se abbiamo ascoltato migliaia e migliaia di volte le parole del Vangelo. Ciechi, e così ci scusiamo di non poter vedere il reale. Mendicanti. Perché siamo tutti mendicanti di che? Mendicanti di luce, mendicanti d'amore, mendicanti di vita. Ecco, sentendo passare, la gente domandò che cosa accadesse. E gli annunciarono, passa Gesù, il Nazareno. Allora gridò, dicendo, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi. No, scusate, abbi pietà di me. Quelli che camminavano avanti, lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. C'è sempre qualcuno che mette il bastone tra le ruote, appunto, tra i suoi, ecco, nella chiesa. C'è sempre qualcuno che mette i bastoni tra le ruote. E dì, non disturbare, dai, continuano le tue pratiche religiose, no? Non venireci a scocciare. Ma Gesù si ferma. Ordina che lo conducano da lui. Quando fu vicino, gli domandò, che cosa vuoi che io faccia per te? E gli rispose, signore, che io veda di nuovo. Ah, questa espressione qui, mi piace anche questa, sono ripetitivo. Che io veda di nuovo. Cioè, che io veda nuovamente. Ma nuovamente non si tratta solo, appunto, della cecità fisica. Che io veda di nuovo. Che io veda di nuovo il mondo. Che io veda di nuovo le persone che stanno accanto a me. Che io veda di nuovo mio padre, mia madre, i miei figli. Che io veda di nuovo i miei colleghi. Che io veda di nuovo la creazione. Che io veda di nuovo la mia città, il mio quartiere, la mia parrocchia, la mia comunità. Che io veda di nuovo. Il nuovo appartiene a Dio. Abbi, infatti, dice Gesù, di nuovo la vista. La tua fede ti ha salvato. Subito ci vide di nuovo, ancora. Comincia a seguirlo glorificando Dio. E tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Che bello. Oggi è un giorno in cui chiedere di vedere di nuovo questa giornata. Queste 24 ore che abbiamo davanti a noi. Le cose belle della giornata di ieri. Beh, nel weekend abbiamo avuto l'evento dell'oratorio. Quindi è sempre bello stare con i bambini. E condividere anche con le famiglie. Con le persone che si mettono a disposizione del preparare cena. E poi stanno lì, insomma, non siamo in tanti. Magari a questi eventi. Ma è bello stare insieme. Stare insieme. E questo è un valore molto positivo. Ieri sera l'incontro con i giovanissimi. Che hanno vissuto un bel incontro, mi sembra. A partire dal Samaritano. Alla nostra partita belota serale, ecco. Che è stata... Che è sempre un buon momento di così... Di svago, ecco, no? E niente, queste sono le cose belle del mio weekend. Ce n'era un'altra, ma adesso me la so scordata. Bene, che oggi impariamo a vedere di nuovo quello che ci accade. Come se fosse la cosa più bella al mondo, ma lo è. Ale, buona giornata a tutti voi.